e naturalmente il cane ha iniziato ad abbagliare, maledetto sono che ho, che sono che ho ragazzi e chiede chi si... aia mi sono morso, mi sono morso la lingua bentornati e bentornati a tutti amiche e amici appassionati del mondo di Ken il guerriero o Kuto no Ken vi do il benvenuto a questo mio nuovo video che sarà incentrato sulla settantaquattresima puntata dell'anime intitolata nella trasposizione italiana alla ricerca di un nuovo eroe come sempre traduzione del titolo giapponese il lupo che solca l'orizzonte lì ci sono i confini dell'amore e del dolore ad inizio puntata vediamo sempre Ryuga che ha comunque l'intenzione di affrontare Tenshiro perché dice a Raoul da questo dipende il destino della sua stella e ci viene anche spiegato che la stella, quindi la scuola di Ryuga non ha niente a che vedere con la scuola di Okuto e neanche con la scuola di Nanto è una stella solitaria il Taizan Tenroken di Ryuga non ha niente a che fare né con Kenshiro né con Raoul né con gli altri guerrieri di Nanto che abbiamo visto Raoul e Ryuga insieme ai loro rispettivi eserciti partono lasciano il palazzo e proseguono nella loro riconquista dei villaggi che dopo il pareggio dello scontro tra Kenshiro e Raoul erano diventati terra di razzia per gli ex soldati del re di Okuto mentre stanno viaggiando Garo, il luogotenente di Ryuga di lui parlerò in maniera più diffusa negli altri miei video cerca di convincere il suo comandante ad uccidere Ken Ho e a prendere il suo posto Ryuga però non ha la minima intenzione di fare questo Ryuga sogna praticamente un mondo in cui questi lupi sciolti questi razziatori vengano completamente spazzati via e pensa che Raoul infondendo paura nel cuore di conquistati e conquistatori possa mantenere questo controllo solo Raoul può portare ordine in questo mondo caotico infatti lui ha ben visto come agisce Raoul nei confronti di chi si oppone a lui qualche anno prima aveva assistito allo scontro tra Raoul e una banda di soldati che desiderava governare un villaggio ebbene Raoul uccide uno di questi uomini Ryuga vede e riconosce la potenza del re di Ocutto e si propone di servirlo Nel frattempo Ken Shiro arriva in un villaggio dove alcuni uomini del re di Ocutto si divertono in maniera naturalmente barbara c'è uno di loro un energumeno che si diverte a torturare e ad ammazzare delle giovani ragazze infatti fingendo di giocare a mosca cieca all'interno di un recinto insegue queste povere malcapitate e quando le afferra le strittola ci viene mostrato come ne abbia già ammazzato tre Kenshiro arriva in mezzo a questi criminali e ne ammazza subito uno e tu invece assumi un'espressione triste vigliacco cosa? lasciami stare bene, tra tre secondi sarai un uomo morto con quello che noi conosciamo come il colpo dell'implosione presumibilmente perché non viene detto il nome di nessuna tecnica cioè l'Okuto Kaikotsuken il colpo spacca ossa di Okuto è lo stesso colpo con il quale Kenshiro aveva ammazzato il colonnello il comandante dell'armata di dio per intenderci e poi fa la solita strage di uomini facendo un misto di tecniche delle quali non ci viene detto il nome uno di questi soldati che sta affrontando addirittura viene tagliato in due non solo già che sembra che ci sia quasi una legge del contrappasso uno di questi soldati preso a colpi da Kenshiro cade tra le braccia dell'uomo che stava inseguendo le ragazze e viene da lui struttolato Kenshiro dunque va a affrontare questo che si diverte in questa maniera ricordiamo che l'uomo indossa una benda sugli occhi quindi non vede chi sta inseguendo ebbene abbraccia Kenshiro crede che sia una ragazza assai muscolosa vuole vederla in faccia non fa neanche in tempo a stupirsi del fatto che Kenshiro sia in realtà un uomo e Kenshiro lo ammazza il resto dei soldati monta a cavallo delle proprie moto e attacca Kenshiro ma vedremo la fine dell'esito di questo scontro fra un po' intanto Ryuga sta continuando a seguire il re di Okuto attraverso tutti quanti quei villaggi che erano sfuggiti al suo controllo Ryuga ha già compreso da tanto che la sua stella la stella di Sirio non può essere una stella dominante ed è per questo che si è rifiutato di accettare il suggerimento di Garo e però i suoi stessi uomini sono assai stupiti perché pensavano che la forza di Ryuga l'avrebbe portato addirittura a sconfiggere a prendere il posto di Raul lo stesso Raul si domanda se davvero Ryuga sia privo di ambizioni Ryuga da questo punto di vista lo rassicura e ribadisce anzi ancora una volta la sua intenzione di affrontare Kenshiro il villaggio nel quale capitano ora Ryuga e Raul è assai strano perché? perché vengono accolti dagli abitanti che non hanno apparentemente né paura né desiderio di opporsi gli stessi soldati di Raul sono assai confusi perché dicono di non aver mai incontrato della gente così infatti spontaneamente questi uomini, questi abitanti si sottomettono, regalano alle truppe occupanti il loro cibo abborrono la violenza come Gandhi e dicono che la non violenza è la loro arma Raul però non la prende affatto bene scrutta con il suo sguardo assassino tutti quanti vede un bambino che trasalisce, lo afferra e quindi ordina agli abitanti di fermarlo con la loro arma cioè di fermarlo con la non violenza il bambino naturalmente non può nulla contro Raul Raul dice che lui non potrà mai ottenere niente con questa loro assurda teoria getta via il bambino e dopo essersi fatto dire chi sia il capo villaggio lo prende a sberle, a colpi sicuramente controllandosi perché altrimenti l'avrebbe fatto fuori dopo un colpo solo e quindi la tattica di questi poveretti non funziona il villaggio sicuramente andrà di nuovo sotto il controllo di Raul e niente di questo villaggio comunque non sapremo più nulla nel frattempo non tutti gli uomini di Ryuga hanno accettato con rassegnazione la volontà del loro capo infatti un gruppetto di loro pretende di attaccare Raul vorrebbero ammazzarlo e far sì che sia Ryuga il comandante di questo mondo caotico tuttavia Ryuga non li fa nemmeno avvicinare a Raul va lui ad affrontare quelli che sono i suoi soldati e ne ammazza due sempre con il suo Taizan Terronken Ritorniamo al combattimento tra Kenshiro e i Centauri in moto Kenshiro inizia a farli fuori tutti anzi un paio di questi motociclisti gli risparmiano la fatica e si fanno fuori da soli alla fine due di loro che hanno legato alle loro moto un'enorme colonna non sappiamo se è di ferro o di marmo eccetera eccetera ebbene vorrebbero prendere in mezzo Kenshiro e schiacciarlo con questo enorme blocco Kenshiro prima si schiocca le ditta non si degna neanche di spostarsi spacca in due la colonna con un colpo e le due metà naturalmente tutto calcolato e tutto scientifico vanno proprio a cadere sopra queste motociclette schiacciando anche i due uomini la famiglia che era stata sicuramente attaccata da questo gruppo di soldati vede come ha agito Kenshiro e terrorizzata e chiede di avere pietà di loro Kenshiro dice che non c'è da aver timore di lui ma il bambino il figlio di questa coppia che non si è minimamente spaventato va addirittura ad abbracciare Kenshiro e a giocare con lui Kenshiro lo prende in braccio e sorride e in lontananza Ryuga sta assistendo a questa scena e comincia ad avere dei seri dubbi chi deve governare questo mondo? Raul attraverso il terrore e la paura o Kenshiro attraverso la gentilezza d'animo e la bontà? vedremo dove questo dubbio porterà Ryuga nei prossimi episodi vi ringrazio perciò amiche e amici di aver visto anche questo video ringrazio tutti quelli che hanno postato commenti anche nei video precedenti io vi invito a lasciarne uno anche a questo a mettere mi piace a condividere il video se conoscete altri appassionati di Occulto io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana grazie e a presto